Lì dove nel 5 e 6 ottobre del 1943 ci fu la rivolta ed il sacrificio dei giovani partigiani per liberare la città di Lanciano dal nazifascismo, c'è la scuola dell'infanzia Maria Vittoria e proprio da questa scuola, oggi piena di bambini che guardano curiosi al futuro, sono iniziate le commemorazioni dell'ottantesimo anniversario degli eroi ottobrini, una cerimonia che è iniziata con il taglio del nastro fatto dalla mini-sindaca e con la piantumazione dell'ulivo della libertà. I bambini hanno agliettato la mattinata con i loro canti ed è stata apposta anche una targa commemorativa su una panchina decorata e dedicata agli eroi ottobrini, la dirigente scolastica Mirella Spinelli. Oggi abbiamo piantato l'albero della libertà nel giardino della scuola dell'infanzia Maria Vittoria. Questa manifestazione rientra all'interno delle manifestazioni che stiamo progettando, che l'istituto comprensivo Mario Bosco sta progettando per commemorare la rivolta lancianese del 5 e 6 ottobre, visto che quest'anno ricorre l'ottantesimo anniversario. Alla manifestazione, oltre che il sindaco di Lanciano, il vice sindaco Danilo Ranieri, l'assessore Angelo Palmieri, è intervenuta anche il sindaco, il mini-sindaco del nostro istituto, Giorgia Dinunzio, che ha ricordato i valori della libertà e quanto essi siano fondamentali all'interno della nostra Costituzione. L'albero diventerà un simbolo per non dimenticare il valore della libertà, ma al tempo stesso è in memoria. Maria Saveria Borrelli, presidente della sezione di Lanciano dell'Ampi. È molto importante essere qui oggi e quindi avevamo deciso, insieme al Comitato degli Eroi Ottobrini, non di concentrare le attività solo intorno al 5 e 6 ottobre, ma di buttare piccoli semi durante tutto l'anno affinché l'ottantesimo fosse veramente un anno di significato per i bambini più piccoli e per quelli più grandi. Oggi è una triologia importante, è l'albero di olivo, simbolo di pace, di pace universale, è l'albero della libertà, che ricorda l'albero della libertà di Trentino Labarba, e poi ancora la panchina dedicata agli eroi ottobrini, simbolo di pace, perché non c'è resistenza senza la pace, non c'è pace senza giustizia. E allora grazie alla scuola come presidio di conoscenza e di libertà. Viva la libertà, viva la libertà, viva la libertà.